Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV. Occhio ai giornali che come sempre si apre con il calendario, l'almanacco, il santo del giorno. Oggi è Sant'Emilio Martire, il sole è sorto alle 5.31 e tramonterà alle 20.40. L'osservatorio meteorologico di Fano TV ci mostra la fotografia scattata dalla webcam alle 7.30 ma immagini che quando volete da qualsiasi dispositivo potete vedere anche se siete fuori casa in altre parti del mondo e vi va di sapere che tempo fa nella vostra città natale e vi prende un attacco di nostalgia potete guardare la webcam in qualsiasi momento. Vedete questa immagine stamattina con queste nuvolette che sembra quasi un cielo a pecorelle che quindi potrebbe portare la pioggia a catinelle ma di pioggia a catinelle ne abbiamo avuta già abbastanza nella giornata di ieri e quindi per oggi il detto non vale. Quindi che cosa succederà oggi? Intanto 17 gradi la temperatura alle 7.30 del mattino. Oggi avremo il sole, piano piano le nuvole lasceranno spazio al cielo sereno, avremo dunque soltanto qualche nuvole al mattino poi piano piano queste nuvole si dissolveranno e lasceranno spazio al sole. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione, quelle massime invece aumenteranno. Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 29 maggio, la stessa cosa. Guardate, la Regione Marche è completamente sgombra dalle nuvole, quindi soltanto sole. Fotografi in azione perché domani avremo una giornata pulita, quindi ideale probabilmente per scattare anche delle belle fotografie perché con la pioggia che c'è stata, il cielo sereno, il sole, la luce già buona, c'è la possibilità con una vegetazione anche bella regogliosa e verde, color vivo è possibile fare anche delle belle fotografie naturali. C'è poco da dire sulla giornata di venerdì, stessa cosa per quella del 30 di maggio, se non che le temperature sono in ulteriore aumento. Condizioni dunque di generale miglioramento anche per i prossimi giorni, con probabile instabilità pomeridiana invece nelle giornate di domenica e lunedì nelle zone collinari e montane. Si dovrebbe salvare dunque la costa. Oggi i giornali raccontano però di quello che hanno vissuto i residenti in particolare di Marotta che ieri sono stati colpiti appunto da questa pioggia intensa che in poche ore ha messo parecchie vie sott'acqua. Cominciamo dal resto del Carlino, intanto il messaggero oggi non è disponibile per il secondo giorno consecutivo nella versione online, la versione PDF. Allora dicevo il resto del Carlino, questa è la pagina di Fano, città ostaggio della pioggia, infiltrazioni d'acqua anche nella sala dei globi della biblioteca federiciana di Fano. Ancora una volta disagi e poi c'è stato anche un divieto di balneazione che è stato emesso nella giornata di ieri. Danilo Carbonari dice il soffitto della biblioteca federiciana non regge più ed ora servono urgenti interventi. Mentre da Marotta una serie di fotografie con l'articolo di Sandro Franceschetti che scrive appunto delle due scuole chiuse per precauzione a Marotta anche se all'interno la situazione era normale, tranquilla, però nella parte esterna di questi due plessi scolastici c'era tanta acqua e quindi giustamente i bambini e i ragazzi sono stati fatti tornare a casa accompagnati ovviamente dai genitori. Allagamente Marotta è chiuso le scuole, popolazione in ginocchio, la rabbia dei residenti, servono investimenti ma da 20 anni qui nessuno fa nulla. e Vittoriano Solazzi si rivolge ai sindaci, chiedete i danni, è tutta colpa della società autostrade. Le terme di Carignano sono danneggiate, resteranno chiuse per tutto l'anno, la struttura aveva già subito lesioni, la situazione è critica. Poi sempre su questo argomento, così poi lo chiudiamo, la pagina di Fano del Corriere Adriatico. Allagamenti e disagi, l'Arzilla fa paura, sotto passi chiuse, circolazione in tilta ieri mattina, minacciati gli stabilimenti balneari, frane nelle zone interne. Anche qui fotografie, piove dentro la Federiciana, in Viale Piceno l'acqua imbada i capannoni, diventa inagibile la palestra dello scientifico. Andiamo sull'altra pagina, quella che riguarda il maltempo, Fano e Valle del Cesano. Il Corriere, un fiume d'acqua e fango, travolge Marotta, due scuole chiuse, sotto passi impraticabili, strade allagate, danni ingenti e cittadini esasperati. Questa è la quinta emergenza fronteggiata in un solo anno. I danni furono ingentissimi anche nel luglio dell'anno scorso, quando le fortissime piogge interessarono anche Ponterio e in parte Mondolfo. Sotto, invece, e quindi cambiamo argomento, la stampa locale narra la guerra. Oggi pomeriggio, alle 5 e mezzo del pomeriggio, si terrà nella sala dei convegni della Mediateca Montanari, in centro storico a Fano, fanno un nuovo incontro della serie Fano e la Grande Guerra. Il conflitto vissuto attraverso la stampa locale, un incontro a cura di Paride Dobloni. Il noto studioso di storia contemporanea terrà una conferenza sulla percezione della guerra nella comunità fanese, su come è stato vissuto questo lungo quadriennio del conflitto. Davvero interessante questo appuntamento, oggi pomeriggio alle 5 e mezzo alla Mediateca Montanari. Adesso torniamo sul resto del Carlino. Perché? Perché c'è, guardate questa fotografia, si tratta del club anziani di Cucurano, il centro per anziani di Cucurano di Fano. C'è preoccupazione tra gli anziani del club di Cucurano per gli oltre 6 mila euro che dovranno restituire al comune di Fano. Abbiamo iniziato a pagare, dice il presidente del club Savino Falcioni, abbiamo versato le prime 4 rate, ma adesso non ce la facciamo più. La rateizzazione concessa dal comune prevede 12 rate da 549 al mese. E sono soldi che il club di Cucurano deve restituire al comune per le bollette, per un totale di 6 mila euro. La cerimonia della bandiera blu. Doveva esserci, credo, il 30, sì, era in programma per il 30 di maggio, quindi un giorno prima delle votazioni alle regionali. I grillini però hanno alzato un po' la voce, si sono rivolte al prefetto, hanno detto che questa è una cerimonia che diventa in quella data, o meglio, propaganda elettorale, diventa una manifestazione per cercare ulteriormente di fare campagne e quindi raccogliere voti, quindi il prefetto ha accolto questa loro richiesta, questa tesi, e quindi i grillini vincono e la bandiera blu resta ammainata. Quando verrà essata? Verrà essata il prossimo 7 giugno alle ore 11, quindi domenica, 7 giugno alle ore 11, ci sarà questa cerimonia dell'alza bandiera, sempre allo stesso posto, insomma, credo che sia a Rastat, quindi la cerimonia è stata rinviata, è stata rimandata. Andiamo sul, continuiamo sul resto del Carlino, andiamo sulla pagina di Pesaro, il delitto di Andrea Ferri, il benzinaio ucciso, sotto accusa ci sono i due Sabanov e Bari, ebbene, bacia, braccia, finudienza, la vedova di Andrea dice, vergogna, gli imputati Sabanov e Bari incontrano calorosamente i familiari, e poi in questa fotografia, ecco, questa è la mamma di Karim, Karim Bari, che ieri ha mostrato orgogliosa le foto del figlio campione di calcio. Lei dice, mio figlio Karim è sempre stato un bravo ragazzo, le sue mani non sono sporche di sangue. E poi sotto un riquadro dove il giornalista scrive, man mano che le udienze si sono succedute, il pubblico che seguiva le fasi del processo per l'omicidio di Andrea Ferri è andato a sparire. Ora sono presenti soltanto i familiari della vittima e un certo numero di praticanti dei legali della difesa. Andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino, perché c'è l'intervista a quella giovane che ha ricevuto un pugno, un bel cazzotto sulla mandibola, mandibola che poi è stata fratturata da questo pugno, si è fatto nove giorni all'ospedale, insomma, e racconta quello che è successo, praticamente è successo per una banalità, anzi per due secondi di follia, due secondi di nervosismo anzi. Così ha detto l'aggressore che ha telefonato a Marco Moschini, che è questo ragazzo che appunto è stato poi anche ricoverato in ospedale, l'aggressore dice mi ha telefonato, sì ha chiesto scusa, però dicendomi che sono stati due secondi di nervosismo, che mi sono costati però, dice lui, nove giorni di ospedale. Erano in un campo di calcio, stavano giocando il campionato nazionale, anzi no, il campionato aziendale WISP, quindi una squadra di Mondolfo contro una squadra di Senigallia. A un certo punto questo qui gli ha dato questo cazzotto. e racconta in questo articolo, in questo pezzo, racconta un po', e fa un po' di considerazioni, ecco, anche a tratti amare su quello che è successo. Poi andiamo a vedere per chiudere, no, andiamo sempre sul resto del calino, perché da Sant'Angelo in Vado c'è la cronica, che ha saccheggiato un motomarket, rubate 11 motoseghe, due beta da trial ed enduro, 10 spugliatori. I carabinieri ieri mattina hanno arrestato uno dei ladri che stava fuggendo in moto. E vedete le fotografie del market che è stato appunto preso di mira dai ladri. Andiamo velocemente sul Corriere Adriatico. Per chiudere, omicidio di Andrea Ferri, il 16 luglio la sentenza, ascoltata la madre di Barry, Karim, Karim dice temeva Donald, quindi il compagno, e mi ha chiesto di stare lontana dal suo amico. Benzene invece nella norma, nessun pericolo. L'ARPAM presenta gli esiti delle analisi nel cantiere ex AMGA Pesaro, bocciato lo stop ai lavori di bonifica. Quando arriverà il caldo, se i lavori monitorati si alzeranno, i valori monitorati si alzeranno, saremo disponibili alla sospensione. Poi, sempre dal Corriere, per chiudere, Elvidia Ferracuti, il soprano, marchigiana dell'anno, il riconoscimento del Cesma al Campidoglio. Dunque, a Roma ci sarà anche il soprano Elvidia Ferracuti, nativa di Petrioli, in provincia di Fermo, e cittadina benemerita di Pesaro, la città di Rossini, dove ha studiato, insegnato canto al Conservatorio e tuttora vive. Allora, quando il gusto è gelato, festival del prodotto artigianale con sette eccellenze provinciali, si parla di questa terza edizione del festival, e poi chiudiamo con l'alza bandiera blu, interviene il prefetto, la cerimonia prevista sabato, rinviata dopo l'esposto di Fano 5 Stelle, il sindaco, non abbiamo favorito nessuno. È tutto, grazie per averci seguito, Arrivederci a domani. Grazie a tutti.